Istituto di istruzione secondaria superiore Archimede Taranto, il futuro del mondo è nelle mani dei giovani. Due settori, settore professionale e settore tecnico. Settore professionale con diversi indirizzi. Indirizzo, manutenzione ed assistenza tecnica, opzione, apparati impianti e servizi tecnici, industriali e civili. Opzione, manutenzione di mezzi di trasporto. Indirizzo, industria e artigianato per il Made in Italy, opzione, produzioni, tessili sartoriali. Opzione, industria. Ecco le novità del settore professionale. Indirizzo, gestione delle acque e risanamento ambientale. Indirizzo, pesca commerciale e produzioni ittiche. Settore tecnico, indirizzo, trasporti e logistica, ex nautico. Indirizzo informatico. Indirizzo elettronico. Istituto di istruzione secondaria superiore Archimede. Taranto, sede centrale, via Lago Trasimeno 10. Taranto, sede Costa, via Lago di Misurina 2. Calsano, sede Palanto, via Bunelleschi 20. Open Days nei seguenti giorni. Domenica 13 dicembre, ore 10, 12 e 30. Giovedì 17 dicembre, ore 15, 17 e 30. Domenica 10 gennaio, ore 10, 12 e 30. Giovedì 14 gennaio, ore 15, 17 e 30. Domenica 17 gennaio, ore 10, 12 e 30. Giovedì 21 gennaio, ore 15, 17 e 30. Domenica 24 gennaio, ore 10, 12 e 30. Prenota via mail, orientamento, chiocciola archimedetarento.edu.it oppure telefonando al 329 08 34 638. Colora il futuro con la scelta giusta. Scegli Archimede.